Grazie a tutti Traguardo 3.0.2.3 Passiamo al gruppo delle vetture bicilindriche con Claudio Paletta dell'autosport Sila pronta a partire su P826 Mancaruso al traguardo 3.0.9.1 Mancaruso al traguardo 3.0.1 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 Mentre si allinea Giuseppe Ferraiolo Su una Piat 500 del gruppo bicilindriche classe 700 Mancaruso al traguardo 3.0.1 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 Mancaruso al traguardo 3.0.1